Siete curiosi di scoprire dove è nato tutto? Venite con me. Il successo di Facile Ristrutturale è nato qui. Tanti piccoli uffici sistemati sul territorio nazionale nei posti più vicini alle persone, all'interno della vita di quartiere, tutti con una delle vetrine fronte strada, all'interno dei quali molto spesso i clienti si affacciavano per cercare di capire cosa si svolgesse all'inizio. Come potete vedere non si tratta di spazi enormi, ma all'interno di un contesto a volte limitato si riunivano le esperienze di tecnici, di colleghi, ma molto spesso anche di compagni, che andavano a fondere all'interno della quotidianità le loro esperienze. Ed è anche qui che si riunivano clienti ed architetti per le prime presentazioni di progetto e muovere i primi passi verso la realizzazione. Questo è solo il primo passo di tutto quello che è continuato poi con il progetto Renovars all'interno di quello che tra poco vi mostrano. E ora vi porto nel futuro di Facile Ristrutturale. Vi diamo il benvenuto nel domani di Facile Ristrutturale. Siamo nei nuovi showroom, poli commerciali, che raccolgono all'interno tutte le aziende del gruppo Renovars. Non più solo ristrutturazione, ma anche arredi, prodotti, serramenti, servizi immobiliari, esperti del credito e operatori call center. Solo nei nostri showroom oggi il cliente potrà trovare ogni risposta legata alla casa. Un sistema sinergico in cui ogni società dialoga e collabora con l'altra al fine di garantire un servizio chiave in mano a 360 gradi. La vocazione di vicinanza al pubblico è rimasta intatta rispetto ai primi negozi di Facile Ristrutturale. Affacciati su strade con ampie vetrate, le nostre parole chiave sono da sempre trasparenza e inclusione. Qui, proprio in questi ambienti, muove i primi passi il futuro del gruppo. Venite a vedere! Una scelta fondamentale dei nuovi showroom facili di ristrutturare è aver deciso di destinare uno spazio dedicato all'accoglienza. Qui siamo nel ristorante dello showroom e proprio a questi tavoli architetti, clienti, colleghi si scambiano non soltanto dei pareri professionali, ma proprio qui a questo tavolo partono molto spesso i primi schizzi per disegnare il progetto di una ristrutturazione che cambierà la vita ai nostri clienti. I ristoranti sanno come conquistare gole e palati dei nostri ospiti e clienti, ma qui nel co-working degli architetti noi lavoriamo quotidianamente per conquistare il loro cuore, progettando quelle che saranno le case protagoniste della loro vita. Rispetto agli spazi condivisi dei negozi, dove anche io ho lavorato per anni come architetto, nei nuovi showroom l'area co-working è stata implementata ed ingrandita al fine di poter accogliere tutti i collaboratori presenti sul territorio, circa 100 per ogni sede. Qui, senza alcuna spesa, gli architetti possono accedere per lavorare, dar voce alla creatività, frequentare corsi di aggiornamento e formazione con i responsabili dell'azienda e i partner fornitori, confrontarsi e svolgere le attività legate alla progettazione. Ogni anno infatti, grazie al lavoro del marketing, raggiungiamo oltre 100.000 clienti interessati alla ristrutturazione, che il nostro call center trasforma in più di 40 appuntamenti per ogni architetto. Avere un luogo come questo dove incontrarli e poterli presentare il progetto di casa, usufruendo anche di spazi privati dotati di schermi per la proiezione non a paragoni, così come non a paragoni avere proprio a fianco del co-working, un'area espositiva di oltre 2.000 metri quadri, dove poter far vedere, scegliere e toccare con mano i clienti i prodotti, le finiture e gli arredi da inserire all'interno del progetto. Andiamo a scoprirla! Siamo all'interno dell'area espositiva, cuore pulsante dello showroom, adiacente al co-working, dove l'architetto accompagna i propri clienti nella scelta di prodotti di design, di qualità, per completare i suoi progetti e realizzare le case da sogno. Uno spazio moderno, progettato al servizio del professionista, all'interno del quale l'architetto non è ospite, ma è protagonista. Il prodotto esposto rispecchi e anticipa le tendenze del mercato, grazie alla continua collaborazione con gli architetti di facile ristrutturare e alle oltre 5.000 ristrutturazioni nella case degli italiani. Con oltre 5.000 prodotti esposti, l'architetto può scegliere finiture, serramenti, arredamento per completare i suoi progetti. E' accompagnato da consulenti specializzati perfezionare le scelte in un'unica giornata, all'interno di un unico luogo, ottimizzando tempi e costi. Siamo una proposta unica, non abbiamo uguali. Non solo ristrutturazioni e arredi. Nei nostri showroom il cliente può trovare anche tutti i servizi legati al mondo dell'immobiliare e del credito. Molti di loro, infatti, prima di dare un nuovo volto al loro appartamento, hanno bisogno di venderne uno di proprietà o trovarne uno nuovo che risponda alle proprie esigenze. E' qui che subentra Facile Immobiliare, l'agenzia del gruppo Renovars che completa veramente il servizio chiave in mano. La sua presenza all'interno dello showroom svolge una duplice funzione. Se da un lato serve a segnalare ai colleghi di facile ristrutturare nuovi clienti interessati a una ristrutturazione di un appartamento appena comprato, dall'altro ci permette di intercettare quei clienti che gli architetti non riescono a convertire in cantieri, in quanto indecisi se ristrutturare o vendere il loro vecchio immobile. In quest'ottica, il co-working è stato studiato per migliorare e aumentare le sinergie tra i nostri professionisti, scambiandosi costantemente nuove opportunità di business. Tutto questo viene supportato trasversalmente da Credito Facile, la società di mediazione creditizia del nostro gruppo, che permette di offrire ad ogni cliente soluzioni di finanziamento più adatte alla ristrutturazione o all'acquisto di una nuova casa. Ma le sinergie non finiscono qui! Esatto! In quest'area lavorano anche i professionisti di Facile Ristrutturare Business Partner, una rete di account commerciali che si occupa di instaurare partnership con agenzie immobiliari esterne al gruppo. L'obiettivo è quello di farsi segnalare clienti interessati a ristrutturare. Ricordiamoci che un cliente realizza veramente il proprio sogno non quando ha questa casa, ma quando ci entra e ciò avviene solo grazie alla ristrutturazione. Grazie al gioco di squadra e alla sinergia che si crea tra l'account, l'agente immobiliare e l'architetto, il cliente viene fidelizzato e supportato su tutti i fronti, già predisposto verso la firma del contratto di ristrutturazione. Un altro servizio è la possibilità di mettere in vendita un immobile già con un progetto di ristrutturazione. Ciò avviene grazie al supporto dell'ufficio di progettazione. Facile Progettare è un'azienda composta da interior designer che si occupa di progettazione. collaboriamo con architetti ed agenzie immobiliari per mostrare ai clienti attraverso la realtà virtuale in anteprima la casa del domani. Il nostro servizio è rivolto a quei clienti che devono ancora acquistare casa e vogliono scoprirne le sue potenzialità e sulla base di una planimetria realizza un progetto e un preventivo finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione con facile ristrutturare. Tutto questo si inquadra in un momento di mercato eccellente con un trend positivo che sicuramente coprirà i prossimi tre anni. Si stima che costruzioni, ristrutturazioni, servizi in genere arrivino a oltre il 20% del PIB. Io sono fiero, orgoglioso di far parte di questa realtà, di Renovars, una straordinaria storia imprenditoriale animata da due formidabili imprenditori illuminati, ma anche e soprattutto una storia di persone che con il loro lavoro, con la loro passione, con i loro sentimenti, il loro cuore, la loro anima hanno reso possibile tutto questo e hanno messo le basi per un grande futuro pieno di soddisfazioni e di luce. Grazie per la visione!